Condannato a morte per apostasia. Mohamed Khaitir è ancora in carcere per uno scritto considerato oltragioso nei confronti del profeta Maometto e le notizie sulla sua sorte restano contraddittorie, dopo un ulteriore rinvio ieri della pronuncia della Corte Suprema della Repubblica Islamica della Mauritania, che avrebbe dovuto riesaminare la condanna a morte in presenza di un pentimento. Il peccato commesso dal giovane ingegnere di 29 anni, per il quale ora rischia la vita, è stato quello di aver scritto un articolo dal titolo Religione, Religiosità e Artigianato, con il quale criticava il sistema delle caste nella Mauritania ed in particolare lo stato di schiavitù. Già lo scorso anno l'amministrazione comunale di Napoli si era mobilitata per questa causa, anche conferendogli la cittadinanza onoraria, ed intanto un altro blogger ha richiesto asilo politico. L'iniziativa di oggi doveva essere, nelle speranze, il momento del festeggiamento dell'elaborazione del lutto, a seconda dei casi, e invece non è stata depositata, perché il 20 sono state grandi manifestazioni a Nuanciotte, che è la capitale della Mauritania, per chiedere l'esecuzione della condanna. E allora, per ragione di ordine pubblica, la Corte Suprema ha rinviato a data da destinarsi. È inutile dire che questo può essere un segno positivo, perché il fatto di rinviare la pubblicazione di una decisione non gradita alla piazza fa pensare, fa sperare che si tratti appunto di una decisione di assoluzione. Comunque siamo in attesa, Napoli in prima linea, oggi ribadiamo ancora una volta la solidarietà e la vicinanza della città a questo giovane che da tre anni è in carcere, non è solo con la timboscia, è da tre anni in carcere, che speriamo possa presto essere liberato e venire qui a salutarci di persona. Esprime la sua solidarietà diversamente dal mondo occidentale, perché se ciò avviene in paesi non conformi, non allineati, l'Iran può essere anche motivo di una guerra internazionale. Invece nel Marocco si tollera la schiavitù, si tollera la pena di morte per apostasia, c'è un azzeramento proprio dei diritti e l'osservatorio Ossim, con il giudice Quadrano, a sue spese, che segue tanto la Mauritania quanto il Marocco, quanto altre questioni molto delicate. Noi siamo onorati di offrire ospitalità e di fare su questi temi un approfondimento.